L'associazione Pinter, il Comitato Salvaguardia Olivaia e la Amici della Terra hanno preso nuovamente posizione su alcuni temi caldi a Riva del Garda come l'area ex Cattoi e Punta Lido, lanciando una frecciata all'architetto Cecchetto. I tempi sono cambiati da quando nel 2006 Cecchetto diceva che Riva del Garda era anche troppo verde, scrivono. Nel frattempo sono arrivati troppi centri commerciali, troppo traffico, sfregi, piani regolatori comunali che ancora prevedono consumo di suolo importante e un piano di comunità che non è a consumo zero del suolo. Quanto a Punta Lido, le associazioni dichiarano che il progetto di Cecchetto non è semplicemente non banale, ma irrispettoso e va ripensato totalmente e umilmente. Dover vedere ogni volta che si passa un edificio estraneo al contesto è un'esperienza che ci eviteremmo volentieri e che eviteremmo ai nostri ospiti. I progettista concludono in modo sarcastico, con una penna ha disegnato il piano fascia lago, con l'altra si sbizzarrisce per la partecipata pubblica, con l'altra disegna per la comunità di valle e con l'altra ancora è al servizio dei privati che acquistano l'area ex Cattoi.